Oggi siamo qui con Lidia che sta per effettuare un trattamento di Creole Bollisi Coltec Define che è l'unico che ci permette di rassodare il tessuto e diminuire i centimetri in poche sedute. E' l'unico macchinario che con i suoi manipoli ci permette di portare la temperatura del grasso adiposo a meno 14 gradi con una distanza di sedute di due mesi e mezzo che ci permettono di far riassorbire al corpo stesso l'adipe. Grazie